Isole ecologiche scambiate per discariche a cielo aperto. Oggetti di ogni tipo e natura vengono abbandonati da insensibili cittadini. Numerose e frequenti le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione, non ultima, quella nella zona di Sant'Orso, dove qualcuno ha pensato bene di disfarsi di un divano. Ma come si fa a smaltire correttamente questi oggetti? L'ASET mette a disposizione, gratuitamente fino a 2 metri cubi di materiale, un servizio di presa direttamente al domicilio dell'utente. Ma come si fa ad usufruirne? Sbarazzarsi di rifiuti ingombranti e smaltirli in maniera corretta è molto semplice. Adesso vi facciamo vedere come fare. Entriamo nel sito di asetservizi.it e cerchiamo la scritta RITIRO DOMICILIO INGOMBRANTI. Una volta che si apre questa maschera, la dovete compilare in tutte le sue parti e lasciare un numero di telefono. A questo punto l'ASET vi ricontatterà al numero che avete indicato. L'altra possibilità che avete, sempre in questa maschera, è cliccare su RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI. In questa pagina l'ASET vi fornisce tutte le informazioni che avete bisogno di conoscere. In più c'è un numero di telefono al quale voi potete telefonare direttamente e prendere contatti con gli operatori. Il numero è questo. E adesso vediamo come procedere. ASET SPA. Gli operatori sono momentaneamente impegnati. La prenotazione del servizio di raccolti ingombranti a domicilio è attiva da lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Al termine del messaggio pre-registrato si entra in contatto con un operatore. Buongiorno. Buongiorno, salve. Il ritiro di rifiuti ingombranti? Sì. Senta, io avrei un divano vecchio e dei mobili da dover smaltire. Come devo fare? Come funziona? Dove abita? È nella zona della Gimarra. Allora, io le dico il giorno che passiamo in zona. Lei mi deve dire quello che ha da buttare via, il nome e cognome, un raccabito telefonico. È gratuito fino a due metri cubi di volume totale. Dove lo devo mettere? Lo mette davanti a casa, sulla pubblica via, in modo che passando lo possiamo prendere anche se non c'è nessuno. Come avete visto è molto semplice e soprattutto più ecologico e rispettoso dell'ambiente che lasciare rifiuti ingombranti nei pressi proprio dei cassonetti o delle isole ecologiche. E questa è proprio una delle cose che l'ASET vi chiede di non fare. Non abbandonare rifiuti ingombranti presso i cassonetti o in un altro luogo pubblico. Utilizzate l'apposito servizio di raccolta o conferite direttamente presso il centro di raccolta differenziata. Grazie a tutti.